E ben ritrovati da Fabio Camillacci, questo è il secondo capitolo di Crimini e Criminologia e torniamo a parlare di indagini ad alta quota, puntando i riflettori su quanto accade nel dicembre del 1988, la famosa strage di Lockerbie. Per parlarne ovviamente quando si tratta di indagini ad alta quota, si ha raggiunto in studio il dottor Antonio Bordoni, bentornato a Cusano Italia TV. Buonasera, buonasera a tutti voi. Esperto sicurezza a volo, ricordo rapidamente i fatti, 21 dicembre 1988, in pieno clima natalizio un Boeing 747, un Jambo, partito da Londra alle 18 e diretto a New York, sta sorvolando la Scozia, si tratta del volo Pan Am 103, un volo regolare, schedulato, regolarmente programmato da Francoforte a Detroit attraverso uno scalo a Londra e un altro a New York. Quel giorno il 747 era la macchina N739 PA, quindicesimo dei 1572 Jambo costruiti, erano passate da poco le 19 e mentre l'aereo era in volo a 31.000 piedi, ovvero 9.500 metri, sopra la città scozzese di Lockerbie fu distrutto da una bomba che era stata piazzata a bordo, uccidendo tutti i 243 passeggeri e i 16 membri dell'equipaggio, in quello che aveva 11 residenti e le immagini, le foto che la regia di Manuel Mazzei vi sta proponendo dicono tutto. Con un totale dunque di 270 vittime, quello è l'attacco terroristico più letale nella storia del Regno Unito. Ecco Bordoni, prima di entrare proprio in quelli che sono i dettagli tecnici, quale fu la prima reazione dell'opinione pubblica di fronte a questa tragedia dell'aria che coinvolgeva addirittura un Jambo. La Pan American in quegli anni era una compagnia icona del trasporto aereo, se tu lavoravi alla Pan American eri l'essere più fortunato del mondo, biglietti free e giri del mondo gratis. Però di là a due anni, proprio anche a seguito degli eventi della sciagura di Lockerbie, la Pan Amma è chiusa i battenti. All'indomani della sciagura, come al solito, la stampa che era alla ricerca di facili sensazionalismi e non sapeva effettivamente quale potesse essere la causa, sparò sulla deregolamentazione. La deregulation, forse molti lo ricorderanno, fu varata nel 1978 dall'amministrazione statunitense e si disse a suo tempo che avrebbe causato una concorrenza spietata fra vettori e concorrenza spietata voleva dire risparmiare soldi, in quanto le tariffe ovviamente si sarebbero dovute abbassare per far fronte alla concorrenza. C'era chi diceva che però i risparmi avrebbero potuto intaccare pure la manutenzione. Quindi la prima facile propaganda che si misse in circolazione all'indomani di quella immane sciagura fu il fatto che la deregolamentazione avesse minato la sicurezza del volo. Peraltro quella che abbiamo rinominato Foto 1 ci consente di inquadrare proprio la compagnia di cui stiamo parlando, la sede storica della Panamerica. Sì, era il grattacielo che si trovava a New York che fu una delle prime cose che la Panamerican dovette vendere perché la cosa strana, l'agonia cui fece seguito la chiusura della compagnia fu un'agonia lenta nel senso che la Panamerica non è che è chiusa dall'oggi al domani a seguito di questa sciagura. Incominciò a vendere dapprima la serie degli alberghi Intercontinental perché in quegli anni ogni compagnia aerea aveva la sua catena alberghiera, avevano acquisito pure queste catene alberghiere dove potevano accomodare passeggeri ed equipaggio. Una delle prime cose che vendette fu la catena degli alberghi Intercontinental e anche questo grattacielo che fu messo poi in vendita proprio per cercare di fare cash. Tra i tanti morti causati dalla strage e dall'attentato di Lockerbie ricordiamo anche due italiani. A bordo del volo 103 si trovavano due cittadini italiani, uno era un dipendente della Panamerican di New York, un ragazzo giovanissimo e l'altro era una romana di 26 anni che andava a trovare una sua amica a New York e l'aveva invitata per le feste natalizie. Il particolare che va narrato per questo incidente Panam 103 è il fatto che quattro italiani che dovevano prendere questo volo e che venivano da Milano con un volo all'Italia, grazie a un ritardo di quasi quattro ore che ebbe il Milano a Londra, si riuscirono a salvare, grazie al ritardo di questo volo da questa sciagura qui, perché sennò anche loro oggi gli italiani sarebbero stati sei, non due. Questi sono i particolari che all'indomani di ogni sciagura aerea vengono fuori e tutti li rammentano. Contrassegnati dal destino. Esattamente. Però se non ricordo male, dottor Bordoni, c'era stato prima, due settimane prima, un avvertimento? Allora, l'ambasciata statunitense a Helsinki aveva ricevuto una telefonata da un personaggio che si dice avesse una calata araba, che avvertiva che di lì a pochi giorni, e comunque prima di Natale, ci sarebbe stato un attentato a bordo di un aereo statunitense. La Federal Aviation Agency, la FA americana, non passò sotto gamba questo avvertimento e avvertì tutte le compagnie aeree statunitensi che c'era stato questo allarme. E quindi fu messa in allarme anche la Pan American, che avrebbe dovuto effettuare controlli rafforzati al momento dell'imbarco di ciascun volo. Anche qui abbiamo un particolare davvero che la dice lunga su come le cose andavano in quegli anni perché la Pan American, in vista dei controlli che avrebbe dovuto effettuare su tutti gli aeroporti mondiali e in vista del fatto che per fare questi controlli avrebbe dovuto acquistare delle nuove apparecchiature elettroniche, mise una surcharge, un supplemento sicurezza di 5 dollari per ogni tariffa che vendeva. Quindi, ironia della sorte, volle che quei 200 e passa passeggeri morti sul volo Pan Am 103 avevano pure pagato un supplemento sicurezza per essere sicuri che nessuna bomba fosse messa a bordo del loro volo. Ecco, poi ne parleremo. C'è stato anche un seguito giudiziario a proposito di un processo. Adesso, se la regia ha l'opportunità, può anche mostrarci quelle che sono le immagini dei processi che peraltro si svolsero in Olanda. Però torniamo, Bordoni, a quel breve volo svolto da questo Boeing 747. Sì, l'aereo doveva decollare all'ora 18, ovviamente gli aerei non partono mai puntuali alle 18, come succede con i treni, e staccò le ruote dalla pista di Heathrow alle 18.26. Non durò nemmeno 40 minuti, praticamente, perché alle 19.02, quando il controllore di volo scozzese stava dando le istruzioni per l'attraversata oceanica, perché dovete sapere che ogni volo che si accinge a attraversare l'oceano atlantico viene istruito, gli vengono date una determinata rotta e gli viene data una clearance oceanica, che è quella in base alla quale lui potrà effettuare il volo atlantico. Ebbene, il controllore scozzese stava dando l'autorizzazione all'attraversata oceanica, quando non ebbe risposta, non ebbe readback, quello che si chiama il readback dal pilota, lo richiamò nuovamente, ma contemporaneamente, dal momento che erano tutti sotto controllo radar quei voli, si accorse che quello che prima era una singola traccia era diventata quasi una fiumana di segnali radar che indicavano sicuramente qualcosa di brutto. L'aereo non rispondeva, non rispose a nessuna chiamata, nemmeno ai piloti che fece intervenire il controllo scozzese per cercare di fare da ponte, pensando a un'interruzione tecnica delle comunicazioni radio. Il radar faceva vedere questa fiumana di punti che si moltiplicavano e il trasponder praticamente non dava più segnali, quindi il peggio era accaduto. Erano le 19.02. Qui vediamo i resti. La regia ci sta proponendo quello che poi, per tornare a un caso italiano, ma non ti voglio scaldare, non la voglio scaldare, dottor Bordone, su Ustica, però ci ricorda molto quello che è il museo della memoria di Ustica. Quelle immagini che abbiamo visto. Questo che avete fatto vedere non è il museo. No, no, per dire, lo ricorda molto quell'hangar dove c'è. L'aereo del 747 fu ricostruito tutto quanto perché, ecco, una differenza che c'è con Ustica, per esempio, qual è? Che balza subito agli occhi. Ustica è finito in mare e l'abbiamo recuperato dopo anni e anni. Il 747 cadde a terra. Per poco perché era vicino al mare. Perché Lockerby, se guardate la cartina geografica, proprio si trova a pochi passi dall'oceano aslantico, eccolo lì. E quindi, diciamo così, gli investigatori ebbero la fortuna di poter recuperare tutti i pezzi e di ricostruire il simulacro del 747 che appunto era quell'immagine che voi avete fatto vedere prima. Appena una settimana dopo, eravamo al 28 dicembre, già gli investigatori dell'Accident Bureau inglese poterono stabilire che si era verificata un'esplosione nella zona di prua sottostante la cabina passeggeri, laddove c'erano i famosi pallet bagagli. E poi, arriveremo a questo punto. Però, per far capire, tutta la storia inizia da Francoforte. Allora, il volo è stato un volo un po' movimentato. Perché? Il 747, come avete detto voi in apertura, svolgeva la tratta Heathrow-New York. Però il volo Pan Am 103, secondo lo schedulato Pan American, originava da Francoforte. Da Francoforte a Londra il volo veniva effettuato con un 727, che è un apparecchio molto più piccolo, un trireattore, che portava 160-180 passeggeri, molto più piccolo del 747. Ed era questa una prassi un po' diffusa in quegli anni, nel senso che, ecco qui facciamo vedere tutta la lista... Qui invece, ecco, tutte le vittime, no? Delle vittime, sì. Un monumento in ricordo delle vittime di Luggerby. Perché, vedete, per ricordare le vittime non c'è bisogno di portare il simulacro dell'aereo in un museo ed esporlo al pubblico. Come è stato fatto in Italia. Come è stato fatto per Ustica. Basta porre una lapide a ricordo dei caduti e tutti gli anni i parenti delle vittime si raccolgono attorno a quella lapide per ricordare i loro cari. Dunque, il volo era iniziato a Francoforte con un 727. E qui, la storia che va raccontata agli ascoltatori è questa qui. che da Francoforte a Londra fu caricata una valigia che conteneva la bomba. Da dove veniva questa valigia? Allora, gli investigatori... Che non era di nessun passeggero. No, che non era di nessun passeggero. Gli investigatori appurarono che dagli indumenti che stavano a contatto nella valigia insieme alla bomba, gli indumenti provenivano da un negozio di Malta che si trovava nella città di Sliema e c'era una particolare marca di pantaloni che veniva prodotta proprio a Malta. Allora, si indagò a Malta e si scoprì che da Malta a Francoforte, nella mattinata di quel giorno del 21 dicembre, era partita una valigia a bordo del volo Air Malta 108. Tutto questo partendo da un tessuto? A Francoforte, sì, perché il tessuto proveniva proprio da un negozio, era stato fabbricato da un negozio di Malta, proprio che c'era questa esclusiva. Era una marca un po' particolare. Sì, una marca un po' particolare. Fu interrogato pure il proprietario del negozio che la vendette e lui si ricordava che era stato un libico ad acquistare questi pantaloni e da lì poi è nata la pista libica. Ora, che cosa è successo? Che l'Air Malta interpellata negò che vi fosse qualche valigia, qualche passeggero imbarcato da Malta a Francoforte quel giorno e in effetti la valigia viaggiò da sola da Malta a Francoforte e si scoprì che il caposcalo della Libyan Arab Airlines di Malta e anche che era il capo della sicurezza aeroportuale della Libyan Arab Airlines lavorava all'aeroporto di Malta e quindi con ogni probabilità ha avuto accesso alle infrastrutture aeroportuali e ha potuto mettere a bordo dell'aereo questa valigia. Evidentemente anche con aiuto da parte di qualcuno. Ma diciamo che se tu sei caposcalo in effetti si può muovere con una certa libertà all'interno dell'aeroporto. Questa cosa l'ha sottolineata spesso Bordoni quando abbiamo parlato anche di altre tragedie. Esattamente. Diciamo che per un caposcalo che per esempio sta, adesso per carità, nessuno si preoccupi, che sta a Fiumicino mettere un tag a un bagaglio e dire questa valigia va a destinazione Milano, metterla sul carrello che scorre, in effetti non è specialmente nel 1988 quando era successo questo incidente qui. Quindi in effetti non dè sta meraviglia che una valigia senza accompagnatore fece il viaggio da Malta a Francoforte e da Francoforte poi fu direttamente messa su questo volo 103 della Panamerican. Però diciamo che la Panamerican ha in questa vicenda una grave responsabilità perché la valigia anche se era giunta a Francoforte senza accompagnatore, però prima di essere messa a bordo del volo 103 a Francoforte e da lì poi smistata a Itro, con l'avvertimento che c'era stato all'ambasciata di Helsinki avrebbe dovuto senz'altro effettuare lo screening di tutti i bagagli, cosa che non fece e che poi si rivelò essere la causa dell'incidente del Panama 103. Peraltro avvertimento che abbiamo detto era stato molto chiaro, non era stato un avvertimento generico, era stato indicato che il volo la tratta. Prima di Natale ci sarebbe stato un attentato per un volo da Francoforte diretto in America negli Stati Uniti, quindi l'avvertimento è stato chiarissimo. E poi torna l'incubo, no? Bordoni della bomba, come accadeva purtroppo una volta piazzata nel bagagliaio dell'aereo, cioè piazzata in un bagaglio e quindi questa è stata un po' una dinamica che ha caratterizzato i tanti attentati dell'epoca. La bomba messa a bordo dell'aereo con la valigia che parte e il viaggiatore che l'ha presentata che rimane a terra è un classico degli attentati aerei. Ecco qui vedete il punto della cabina sotto quasi al cockpit. Questo è il punto dove c'era la bomba. Dove c'era il pallet 40-41, il pallet era il 40-41, quello che esplose e che conteneva la Samsonite con dentro il radioregistratore della Toshiba. Perché è stato ricostruito anche questo, no? Sì, pure qui ci sta un particolare interessante nel senso che l'impiegato che lavorò questo pallet all'aeroporto di Heathrow, il 40-41, infatti poi c'è una fotografia dove si vede il numero 40-41 del pallet rovinato, questo qui è la punta dell'aereo ed indica il punto in cui era posizionato il pallet. Questo pallet qui portava il numero 40-41 e l'impiegato si lo ricordava perfettamente di averlo lavorato, di averci messo dentro i bagagli, eccetera, perché disse che il 40 era l'anno della sua nascita e il 41 era l'anno della nascita della moglie. Quindi si ricordava perfettamente di aver messo dentro questo 40-41, questo pallet 40-41, la Samsonite che poi conteneva il registratore Toshiba con la bomba camuffata all'interno. Eccolo qua, eccolo qua il famoso Toshiba. Ecco, ma per risalire a tutto questo parliamo ovviamente di una bomba non ad alto potenziale, è chiaro, basta poco per far precipitare un aereo. La bomba non era ad alto potenziale ma si trovava in un punto pressurizzato e quando un aereo vola a quella quota lì, come detto, 9.000 metri, basta un piccolo foro alla carlinga che poi esplode tutto di conseguenza. Quando è stato ricostruito il simulacro del 747, il foro che si trova, quello che avete fatto vedere prima, in quella posizione, eccolo lì, era 50 cm, quindi sono due palmi e mezzo praticamente, due palmi e mezzo. E da lì poi si è scatenata tutta la rottura dell'aeroplano conseguenziale a questa piccola, fra virgolette ovviamente, esplosione. Vi devo dire anche, e questo potrebbe interessare un po' il pubblico, che a seguito di questo incidente tutte le compagnie aeree guidate anche dalla israeliana Elal, che è stata sempre la maestra nel prevenire attentati a bordo dei propri aerei, hanno studiato ed hanno implementato, cioè messo in servizio pallet, che anche se all'interno avveniva un'esplosione, l'aereo sarebbe rimasto integro e avrebbe potuto continuare a volare tranquillamente. Come mai tutti questi errori, sottovalutazioni da parte di una compagnia che peraltro non se la passava bene, quindi doveva stare attenta al dettaglio, al particolare, eppure una serie di errori a catena? Guarda, la storia dell'aviazione commerciale è veramente, cioè la storia della infortunistica aviatoria, se così possiamo dire, è veramente interessante. Nel senso che se noi andiamo a analizzare tutti gli incidenti aerei, dai più gravi ai più minuti, a quelli meno complessi, ci accorgiamo sempre che da quella che si chiama la catena degli eventi, the chain of events, che da un piccolo particolare trascurato poi si arriva alla grande tragedia. Ecco, la Panamerica, per esempio, ripeto, l'ho detto prima e l'ho messo in evidenza, aveva applicato un surcharge, un supplemento sicurezza per far sì che i passeggeri viaggiassero sicuri. In quel caso, lì specifico, le apparecchiature ancora non erano state acquistate, non erano presenti in tutti gli aeroporti del mondo e funzionavano a singhiozzo, sicché quel giorno la Panamerica, quando aveva, gli impiegati di Francoforte, quando avevano questi bagagli da lavorare che dovevano trasferire da un volo all'altro, tanto più che non c'erano passeggeri in trasferimento fra il volo a Ermalta e quello della Panamerica, ma soltanto questo bagaglio circolava liberamente nell'aeroporto, solo il bagaglio, non reclamato da nessuno, è passato sottomane, è passato sottomane e c'è stata questa immagine. Ed è riuscito qualcuno a farlo imbarcare lì dove andava imbarcato? A Francoforte, diciamo così, sono stati incoscienti gli impiegati aeroportuali che avrebbero dovuto passare allo screening qualsiasi bagaglio, tanto più che c'era stato quell'avvertimento. E tanto più che c'era stata una sola tassa, quanto capivo. Quella è stata una presa in giro praticamente. Per ulteriori controlli. Quello lì è stata una presa in giro per il proprio. A Malta, come d'altra parte in tanti altri aeroporti purtroppo del Medio Oriente, la storia si è ripetuta anche di recente a Charme Sheik in aeroporti di quell'area lì, purtroppo se l'area aeroportuale non è, diciamo così, sterilizzata, c'è veramente il pericolo, non per il passeggero che si porta a bordo la bombetta che poi si presenta in cabina e dice signori faccio esplodere l'aereo. No, c'è proprio il pericolo ancora oggi che c'è un impiegato, un dipendente aeroportuale che ti mette a bordo dell'aereo nella stiva mentre carica i bagagli qualche cosa che poi esploda una certa quota quando tu l'hai settato con il tempo. Questo purtroppo è un pericolo ancora ricorrente. Qui siamo in Scozia ovviamente per quella che fu la detenzione dei responsabili. Andiamo a parlare proprio delle responsabilità. Prima faceva riferimento il dottor Bordoni a questo frammento di un paio di pantaloni con la marca Yorki che era stato recuperato durante l'operazione di ricerca e si appurò poi che era stato venduto a Malta a un libico mercoledì 7 dicembre 1988, circa intorno a quella data, quindi due settimane prima della tragedia. E questa fu la prima connessione che legò l'attentato alla Libia all'epoca guidata dal colonnello Gheddafi di cui abbiamo anche le immagini storiche. E' così Bordoni? Questo è il tramite per cui si parlò subito di Gheddafi. Gheddafi dovete sapere che non fu chiamato in ballo subito in questo incidente, ma all'indomani sempre del 21 dicembre vi fu un altro collegamento oltre quello di Gheddafi che venne a posteriori. Non so se vi ricordate, ma a luglio 1988 un aereo iraniano, un Airbus iraniano, fu abbattuto da un missile americano lanciato da un'unità della marina statunitense che si trovava nel Golfo Arabico per errore. Gli Stati Uniti hanno subito ammesso l'errore, hanno pagato quello che c'era da pagare di danni, eccetera, eccetera. E ci furono in quell'incidente dovute all'abbattimento di un Airbus iraniano con un missile americano 290 vittime, tutti gli occupanti dell'aereo. Allora, l'indomani dell'attentato Pan American, compagnia americana, icona del trasporto aereo a stelle strisce, la prima cosa che si pensò, a parte la deregulation, perché quelli giornali si inventarono questa cosa della deregulation, ma fu quella della risposta dei palestinesi all'attentato avvenuto nel luglio 1988 all'Airbus iraniano. Quindi la prima pista politica che si presse fu quella della risposta all'attentato all'Airbus iraniano. Poi, portate avanti le indagini, trovato il nesso con Malta, il negoziante che si ricordava di questo cittadino libico e si svolsero l'indagine appunto a 360 gradi nell'ambito... Fu prodotto anche un identikit, di fatto. Venne pure, sì, l'identikit, esattamente. Si collegò l'attentato alla questione libica, al colonnello Gheddafi, sì, confermo. Dopo tre anni di indagini, congiunte dalle autorità scozzesi e dall'FBI, qui intanto vediamo in conferenza stampa il colonnello Muammar Gheddafi, fu emessa la sentenza con il capo d'accusa per omicidio contro Abdel Baset al-Megrai, un ufficiale dei servizi segreti libici, il quale era anche il capo della sicurezza della Libia Arab Airlines all'aeroporto di Malta. Ecco, lui fu arrestato anche il capo scalo della compagnia libica in riferimento al processo di cui parlavo prima, di cui abbiamo le immagini, e proprio a questo protagonista che poi è morto, ucciso dal cancro. Ecco, delle responsabilità della Panam abbiamo parlato, ma Bordoni, prima di andare alle conclusioni, c'è un altro giallo nel giallo che fa riflettere molto. Qualche anno dopo, qualche anno dopo, quando il presidente degli Stati Uniti, mio valido del 89, Bush, incontrò... Parlo di George Bush padre. George Bush padre, incontrò i parenti delle vittime del volo 103, ci fu uno di essi che fu avvicinato da un personaggio del Pentagono e gli venne detto, dice, guardate che la vostra ambasciata a Londra, come la nostra qui negli Stati Uniti, sa benissimo che cosa è accaduto al Panama 103, ma voi non lo saprete mai. E qui veramente... Il tuo governo, stavo leggendo proprio, il nostro sanno esattamente cosa è successo, ma non lo diranno mai. Non lo diranno mai, esattamente. E questo fa pensare cosa è successo. E qui possiamo spaziare a 360 gradi su varie ipotesi, che posso dire, perché ricordiamoci che ogni incidente aereo viene sempre accompagnato da una serie di ipotesi, no, non è vero che è stato quella, è stato quell'altra, eccetera, eccetera, però in effetti se voi andate a leggere le, mi pare, 400 pagine di rapporto ufficiale sull'incidente Panama 103, la causa dell'incidente viene attribuita alla bomba. Ora, su questo non ci piove e nessuno può dire, no, non è stato una bomba. Su questo siamo certi, è stata una bomba a volto. Assolutamente. Ovviamente, chi ha messo la bomba, chi ha messo la bomba, ci si è puntati direttamente, dopo la piccola trasgressione verso l'Iran, su Gheddafi. Gheddafi, fra l'altro, anni dopo ricompensò, accettò il pagamento di somme risarcitorie ai parenti delle vittime, però quello che è veramente il motivo per cui quella bomba fu messa a bordo, se non fu Gheddafi che cosa fu, sinceramente io non posso dire niente perché se non l'ha svelato il presidente degli Stati Uniti, figuratevi che posso svelarlo io. Parliamo di terrorismo, quegli anni abbiamo parlato spesso, no, di tragedie aeree legate a questioni israelo-palestinese, tante bombe. Quello che vi posso dire è che dall'incidente che avvenne nell'Oceano Atlantico, al volo New York-Londra dell'India, dove perirono 329 persone, anche lì fu un Boeing 747, dove una certa corrente indiana di SIC, non vorrei adesso dire, aveva messo una bomba a bordo di quel volo, la IATA, l'ICAO decisero che l'aerei non potevano partire se non fosse stata effettuata la riconciliazione tra bagaglio e passeggeri. Quest'incidente era avvenuto nel 1985 ed è da quell'anno che si rese obbligatorio il reconciliation dei bagagli prima della partenza di ogni aereo. Adesso se pensiamo che Lockerbie è accaduto il 21 dicembre 1988 e stiamo dicendo che un jumbo della Pan American è decollato con una valigia a bordo che non si sapeva di chi era, la Pan American si vantava di essere the most experienced airline in the world, cioè la compagnia più esperta al mondo, veramente l'aviazione civile aveva ancora molto da imparare. Ecco per chiudere, che siamo veramente in chiusura, continuiamo a vedere le foto che finora non abbiamo visto, credo ce ne siano altre che Bordoni voleva commentare, come l'ultima della Pan Am, oltre alla fusoliera, una parte della fusoliera che abbiamo visto poco fa. Questa ci spiegava prima a Bordoni. Sì, questo qui sono i pallet, questa è la parte inferiore del jumbo, dove sono posizionati i pallet, e quei due quadrati dove sono evidenziati con ricoperti a punto di linee più scuri, quelli sono dove stavano i due pallet, uno era il 4041 e l'altro il pallet vicino che era stato anch'esso molto danneggiato, e inizialmente non si sapeva se la bomba era stata inserita dentro l'uno o dentro l'altro. Però, insomma, abbiamo tanti dettagli, questa l'abbiamo visto prima per far capire dove è Locker. Locker non lo conosceva nessuno prima dell'incidente. La bomba sarebbe dovuta esplodere con l'aereo che era sul mare, così finiva in mare. Anche questa è una delle ipotesi che si fecero. Invece è finito sulla terraferma. Sì, perché dovete tener conto che la bomba era stata assettata a un orario dalla mattina del 21 dicembre, quindi in effetti si sapeva che l'aereo, come orario, doveva decollare da Londra alle 18, però in effetti se si voleva fare il danno maggiore non lo si potiva fare sulla tratta Francoforte-Londra, ma lo dovevano fare sulla tratta Londra-New York, dove sarebbero stati imbarcati molti più passeggeri e dove, fra l'altro, c'era la possibilità che l'aereo fosse caduto in mare. Per chiudere possiamo dire, è stata una bomba a bordo, lo sappiamo, è stato appurato dalle minuziose e attente indagini, però rimangono tanti dati oscuri. Gli interrogativi su chi l'ha posta e perché l'ha posta. Soprattutto per chi ha lavorato, questa persona che ha sistemato, ha piazzato la bomba su quel Boeing della Panamera. Sì, perché a Francoforte, poi nei giorni precedenti dell'incidente, era stata arrestata una cellula terroristica palestinese. Anche questo fece pensare inizialmente al terrorismo palestinese. Grazie ad Antonio Bordoni per quest'altro capitolo di indagini ad altra quota. Abbiamo approfondito la strage di Okerby, poi lo riavremo ospite per altre questioni legate a terribili incidenti aerei. Nostro esperto, sicurezza a volo. Grazie ai prossimi appuntamenti. Grazie a voi. Noi ridiamo la linea alla regia, Manuel Mazzei, e poi torniamo per il terzo e ultimo capitolo di Crimini e Criminologia. È il momento, tra poco, della Galleria degli Orrori. Un altro serial killer da conoscere, appuntamento da non perdere. Grazie a tutti.